Una storia che potrebbe essere uscita da un racconto di Natale era il giorno di Santo Stefano quando una donna vicentina stava passeggiando in prato della Valle a Padova con un'amica e la sua cagnetta Chimi, una meticcia di 13 anni all'improvviso l'animale ha avuto un mancamento, sembrava quasi morta ha riferito la donna, subito si è formato un capanello di persone, cosa che ha tirato l'attenzione degli agenti di una volante della polizia di stato che si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo, hanno trovato la donna in lacrime che ha spiegato loro che la povera bestiola aveva avuto un malore ma lei non aveva un'auto per portarla da un veterinario, gli agenti hanno quindi proposto di accompagnarla con la volante in una clinica veterinaria all'Arcella, la cagnetta è stata quindi presa in cura dei veterinari che l'hanno rianimata e le hanno salvato la vita, la donna ha quindi ringraziato gli agenti che l'hanno soccorsa, un gesto carico di gentilezza e umanità ha dichiarato la donna.